quando si dice voi siete qui sabato di merdense alex angioletti qui dal primo piano andiamo intervistare un'altra sposa un'altra amica da dove arrivi ciao quanti chiami isola della scala e leonora perfetta le sa tutto un applauso sta resistendo la botta delle amiche allora vero che ti sposi ah certo che vero ma cos'è che hai portato su al primo piano visto che eri il termometro oh la madonna che caldo ma cosa serve questo termometro è vero cosa c'è scritto la febbre del sabato sera ah hai capito ma io spero che tu adopererai mettendolo sotto le ascelle dipende dipende da chi trovo e se fanno i bravi e se fanno i bravi oddio io mi tirerò alla larga mamma mia ecco dalla regia ci stanno anche dando qualche consiglio anatomico però io sinceramente me ne tengo alla larga allora con chi ti sposi con tommy tommy ciao tommy piacere ciao tommy ciao bello ciao dov'è tommy è a casa ragazzi tommy a casa dicono tutti così a noi ci hanno mandato un'email tommy non è a casa si che a casa ti giuro che non è a casa se non è a casa sarà e già però c'ha l'alibi va bene dai viva la sincerità dopo quanto tempo dirai sì al tuo tommy dopo quattro anni e l'hai messo in ginocchio quattro cinque dopo cinque no quello è l'altro quello è l'altro quello dei quattro anni questo è quello dei cinque allora dopo cinque anni e come te l'ha chiesto siamo curiosi in nessun modo abbiamo deciso insieme ah ok una sera vi siete incontrati ha detto ma che dici magari mettiamo su un bel matrimonio sì ma roba da 200 invitati sì no meno meno però mettiamolo su dai sì 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 ecco allora è vero amore questi qua un applauso perché è vero amore un applauso attenzione perché sta salendo ancora di più la temperatura in questa sala allora attenzione stai ferma lì ragazzi cosa ho visto ma se è salendo la temperatura tiro su no ma stai calma mamma mia è agilatissima voleva già operare e mettere le mani le mani in situazione noi veniamo biscottini li venderai dopo e io te le compro qualcuno anche bravo offerta bisogna infilare qua è praticissima lei è ecco allora per gli amici a casa se volete offrire qualcosa lo dovete infilarla qua che lei mi dà direttamente dal distributore e c'è la mano e mi dà sulle calecche l'holly pop bravissima allora dove vi sposerete e quando isola della scala 3 settembre 3 settembre e allora siamo arrivati veramente alla fine noi ti auguriamo un mondo di bene e tanto divertimento per questa notte del sabato di nedenza con vento ma ci salutiamo con un 3 2 1 un urlo libero 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4